segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tra l'altro specificando nell'interesse quindi non per un'opinione personale ma in base a una valutazione di merito no come ne esce ne esce ai noi come ne sono usciti altri ministri in questo anno compreso lo stesso giorgietti perché se ricordiamo i precedenti ci sono stati ministri come Antonio Tajani o Guido Crosetto che hanno scoperto ex post dell'accordo con l'Albania per esempio sui migranti cioè potremmo fare tanti esempi che testimoniano cosa che come spesso si è detto prima a mezza bocca e poi avendo diciamo collezionando prove in maniera sempre più esplicita il timone è saldamente in mano a Giorgia Meloni gli altri con tutto rispetto non dico che sono intercambiabili o continuo poco però diciamo che sono facilmente le opinioni dei singoli ministri sono facilmente sacrificabili all'interesse e alla decisione della Presidente del Consiglio qualcuno obietta che è sempre stato così in realtà diciamo abbiamo avuto ministri forti in grado di come dire di se non di imporre di calibrare l'azione del governo anche in base alle proprie convinzioni e comunque esplicitare in questo modo il proprio dissenso su un atto lo diceva bene Lorenzo Pegliasco cioè sul MES si sono fatte non una ma svariate campagne elettorali da parte di svariati partiti senza che nessuno abbia mai davvero capito di che si sta parlando. Ieri sera in onda abbiamo chiesto al professor Cottarelli di spiegarcelo e ho detto non ne posso più perché effettivamente cioè si parla di questo oggetto estraneo che nessuno ha interesse a capire davvero si usa solo come grimaldello per diciamo per stimolare e sfruculiare come diciamo a Oxford le pance di questo o di quel settore del paese ma detto questo. Però poi c'è l'Europa. Esatto esplicita il ministro. Che poi è quella che mette il bollino sulle manovre finanziarie. Quest'anno era più facile l'anno prossimo con il nuovo patto di stabilità sarà molto più complicato. Ma soprattutto sarà Giorgetti con la sua faccia a dover trattare in Europa dopo questa questa manovra politica sul cui diciamo sulla cui efficacia non entro ma diciamo il primo effetto è quantomeno un imbarazzo e non escludo che da parte di Giorgetti esplicitare in modo così plateale il proprio dissenso rispetto al comportamento del governo sul MES non sia diciamo una... Io il mio l'ho fatto, ho detto che sono contrario. Non è colpa mia. È stato lui. Mi hanno mandato loro. È Lorenzo Fregliasco.